...d'essere qui, d'essere per un'idea, per un progetto, per una grande aspirazione, quella di cambiare il nostro paese e di farlo che parte a tutti noi. Sentite un po' di gente, non dà che un solo, perché è successo, non è falsità, è un paese che ha da care vicino, l'aria non si può giudicare, e tu torna da una confusione, la gente non tenneva a chi da pregare, l'acqua sera fatta, è piaciuta, è piaciuta, è piaciuta. ... 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 La 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 Fa freddo? Si Questo La Puglia cantare si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.